Mancano solo 20 giorni dal debutto della terza edizione del Grande Fratello Vip, e le anticipazioni non mancano. Per il momento le notizie ufficiali sono davvero poche anche se, il rumor, sembrano aver rivelato i nomi di ben 12 dei concorrenti, che dovrebbero far parte di questa edizione. . E ancora l'attore Walter Nudo, vincitore della prima edizione dell'Isola dei Famosi e l'attrice britannica ex conduttrice di Mistero affiancando proprio il vincitore della scorsa edizione, Daniele Bossari Gianne Alexander. . Ma adesso è ufficiale l'ingresso di Martina Amri, uno dei volti di Meteo.it? Padre egiziano e madre italiana, vive a Milano, e dopo l'esperienza a Veline, ha continuato a fare televisione, diventando conduttrice del programma televisivo, Meteo. . It in onda sulle reti gratuite Mediaset dopo tutte le edizioni del TG4, TG5, e studio aperto, ed in diversi orari sul canale Al News TGCOM24. . Già nel corso della giornata, 361 magazine aveva dato per certa la partecipazione al reality show condotto da Ilari Blasi della showgiri Giulia Salemi, e del campione di judo Fabio Basine. . 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